Tutto esaurito anche per la seconda data dei Lago dei Cigni, rappresentato sul palco dell'Anfiteatro Fausto dalla Corona del Balletto Russo per l'organizzazione dell'Associazione Visioni Musica. Una dimostrazione della possibilità di fare cultura sfruttando una suggestiva location come quella dell'Anfiteatro dove portare eventi di qualità come quello del Balletto di Mosca. Le immagini nel servizio. Doppio successo per il Lago dei Cigni portato in scena dal Balletto di Mosca all'Anfiteatro Fausto per l'organizzazione dell'Associazione Visioni Musica. Dopo il pieno della prima rappresentazione del 28 luglio, da registrare il bis per la seconda data del 4 agosto, una replica fortemente voluta da Silvia Lunni, direttrice artistica di Visioni Musica, che ha puntato su uno spettacolo di qualità centrando l'obiettivo. Una dimostrazione che si può fare cultura anche in questa città scegliendo eventi di comprovato spessore artistico e una location suggestiva come l'Anfiteatro Fausto, che si presterebbe magari a un cartellone estivo ben più ampio e qualificato. La Corona del Balletto Russo non ha tradito le attese, in primis con le performance dei due solisti Alexander Alinikin e Anna Ivanova. Il resto l'hanno fatto la musica di Tchaikovsky, la bravura degli altri componenti del corpo di ballo e la celebre storia d'amore, dramma e fantasia della bella Odette del principe Siegfried, nella continua lotta tra il bene e il male rappresentato quest'ultimo dal personaggio del mago Rothbart, che riesce nell'intento di irretire il principe grazie alla figlia Odile trasformata in sosia di Odette. Resosi conto dell'inganno, il principe Siegfried si precipita nella notte alla ricerca della fanciulla Cigno Odette. La trova morente e mentre Siegfried tenta di salvarla una tempesta si abbatte sul lago, che inghiotta nelle sue acque i due amanti. Finita la bufera, le anime dei due si riuniscono in una apoteosi celeste.